Proseguono gli eventi organizzati nell'ambito del Premio Nazionale Paolo Borsellino. Oggi al Circus di Pescari è andato in scena lo spettacolo Professione Angelo Custolde, scritto e prodotto dalla docente pescarese Franca Berardi, che ne cura anche la regia, con le musiche di Stefano Cutilli, protagonisti gli studenti dell'Istituto Comprensivo 4, diretto da Daniela Morgione. Si tratta di uno spettacolo dedicato ai giovanissimi, e attraverso il linguaggio teatrale, nonché anche quello musicale e dell'arte in generale, cerchiamo di presentare questa tematica anche piuttosto complessa, soprattutto per i più giovani e alle nuove generazioni, anche perché stamattina saranno presenti anche bambini delle scuole elementari. Cosa racconta? Parla un po' della situazione che in effetti spesso viene dimenticata situazione in cui vivono gli uomini di scorta, quindi persone comunque che lavorano dietro le quinte, ma che rivestono un ruolo molto importante, oltre che molto pericoloso. Angeli custodi? Angeli custodi perché siamo sicuri che sotto la divisa abbiano sicuramente le ali, perché è un lavoro che sacrifica la vita, non solo propria, ma anche dei familiari. Qual è la reazione dei ragazzi? Nel momento in cui si scelgono dei linguaggi diversi, quindi attività didattiche non convenzionali, il messaggio arriva più direttamente e una volta aperto quel canale comunicativo, all'interno si infilano anche i tradizionali programmi ministeriali. Il linguaggio delle emozioni arriva prima? Il linguaggio delle emozioni dovrebbe arrivare sempre prima, anche perché c'è una grande attenzione all'intelligenza affettiva, all'empatia, però anche chi in effetti non ancora si abitua a questo tipo di linguaggio, attraverso queste occasioni sicuramente può crescere e migliorarsi. Grandi e piccoli.